cari figli questo tempo sia per voi un'esortazione alla conversione personale figlioli pregate nella solitudine lo spirito santo affinché vi rafforzi nella fede e nella fiducia in dio per poter essere degni testimoni dell'amore che dio vi dona attraverso la mia presenza figlioli non permettete che le prove vi induriscano il cuore e che la preghiera sia come un deserto siate al riflesso dell'amore di dio e testimoniati gesù risorto con le vostre vite io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie a tutti